Proteggere e servire Non ero sicuro che ti avrei rivisto Hai trovato quello che cercavi? Hai qualcosa per me? Lo prenderò per un sì Non mi sorprende Hai eliminato Kellogg, dopotutto Il passo successivo è abbattere un predatore Come hai fatto a decifrarlo? I Railroad mi hanno dato una mano Oddio, quei pazzi Pensavo fossero troppo impegnati a cercare di liberare distributori automatici Terminali di computer o... Scusa È che hanno una reputazione dubbia Anch'io mi sono dato parecchio da fare Ho fatto del mio meglio Tra ricordi e cose sentite nel corso degli anni Ti ho preparato dei progetti Non è stato facile Queste mani sono ridicole La motoria di precisione è andata Eccoti la spiegazione semplice Devi costruire un congegno che capti il segnale che l'istituto utilizza per teletrasportare i predatori e usarlo su di te Sai qual è l'aspetto più folle del progetto? Quella stazione di musica classica è il segnale portante del trasmettitore Tutti i dati sono contenuti nelle frequenze armoniche Mi hai sempre sentiti Voglio che sia chiaro che questo non è il mio campo Ero in bioscienze Non in ingegneria o sistemi avanzati Bioscienze Sistemi avanzati Divisioni dell'istituto Gruppi specializzati che lavorano su vari progetti Poi capirai Ma se riuscirai a costruire questo dispositivo e usare il codice Dovresti riuscire a intercettare il segnale dell'istituto Puoi farlo? Voglio dire, puoi costruirlo? C'è qualcuno che ti aiuta? È difficile per una sola persona Persino per te Questo dispositivo mi farà entrare nell'istituto? Sì, sei costruito bene E ti prego di non sbagliare Devi farcela Per il bene di entrambi E non dimenticare il nostro accordo Ti ho aiutato come ho potuto Se riesci a entrare Cerca quel siero È la mia unica speranza di essere Normale Quindi trovalo Ora va Prendi questi e mettiti al lavoro Fa ciò che devi Chiama in aiuto chiunque ti serva Proteggere e servire Dobbiamo allontanarci da queste radiatezze azioni, subito. Ormai avrai sicuramente capito che il nostro arrivo nel Commonwealth non è stato casuale. Siamo qui perché la squadra di ricognizione del Paladino Dance ha rilevato una strana traccia energetica. Secondo i nostri scrivi, indicherebbe un livello di tecnologia raggiungibile soltanto dall'Istituto. Non appena ottenuta questa informazione, la nostra missione è divenuta chiara. L'Istituto, e chiunque sia responsabile della creazione dei sintetici, deve essere eliminato a ogni costo. Per riuscire in questo obiettivo, dobbiamo localizzare il quartier generale dell'Istituto. Ho inviato i nostri scrivi a setacciare meticolosamente il Commonwealth. Ma non hanno trovato niente. L'unica spiegazione logica è che sia nascosto sottoterra. Ed è qui che ci serve il tuo aiuto. Puoi dare un'occhiata a questi progetti. Secondo uno scienziato di nome Virgil, potrebbero farmi entrare nell'Istituto. Credo che dovresti mostrare quei progetti al censore Ingram. Detto questo, sono lieto che tu abbia deciso di creare il dispositivo con la confraternita. Ora, fammi il favore di soddisfare la mia curiosità. Dimmi perché ti preme così tanto entrare nell'Istituto. Credo che abbiano rapito mio figlio. L'Istituto sfrutta i deboli per soddisfare i propri fini. Insieme, gliela faremo pagare per i loro crimini. Vado a parlare con il censore Ingram. Vai subito all'aeroporto e mettiti al lavoro sul tuo progetto. Anziano Maxon, ha ordinato il recupero o la confisca di qualsiasi forma di tecnologia. Maxon può sembrare una persona pagata, ma vi assicuro che l'Istituto conoscerà la sua vita. L'anziano Maxon ha detto che mi avresti dato una mano a creare l'intercettatore di segnale. Quindi, a quanto pare, ora sei tu a dare gli ordini qui, eh? D'accordo, sentiamo. Che cosa fa il tuo dispositivo miracoloso? L'Istituto usa il teletrasporto per entrare e uscire. Questo dispositivo può intercettare il segnale e inviare me. Teletrasporto? Trasmissioni molecolari tramite onde radio codificate? Ok, devo ammettere che è geniale. Questo spiega perché abbiamo rilevato tracce energetiche anomale in tutto il Commonwealth. E anche come fanno i loro soldati di latta a uscire dalle cazzo di mura. E questo splendore ti permette di intercettare un segnale di ritorno. Invece di prendere il bersaglio previsto, prenderà te. Notevole. Sembra davvero notevole, ma puoi costruirlo. Se riesco a tenere in aria questo mucchio di rottami, posso fare miracoli. Non è facile decifrare tutti i dettagli, ma credo che potresti iniziare costruendo una piattaforma riflettente stabilizzata. Ci vorrà un carico di materiali di qualità. Ma sono certa che ce ne sono parecchi qui all'aeroporto. Puoi darmi una lista di quello che serve per costruire questa piattaforma? Ma certo. Ecco l'elenco di quello che devi cercare. Ti servirà una grossa fonte d'energia per alimentare gli intercettatori di segnale. Il Commonwealth non ti piace? Dovresti vedere la zona contaminata della capitale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se l'anziano Maxo mi ordinasse di seguirlo, l'inno ha detto che l'inverno... Hai già costruito la piattaforma? Sì. Ora posso costruire il resto. Bene. Andiamo avanti. Ecco la lista di quello che ci serve. Ora, so che alcuni nomi potrebbero sembrarti assurdi, perciò sono qui se hai qualche domanda. Puoi spiegarmi come funziona in pratica questo affare? Secondo gli appunti di Virgil, l'intercettatore di segnale richiede quattro componenti. Primo, ci serve una console di comando per inserire il codice e processare il segnale. Questo è facile. Secondo, ci serve la parabola di trasmissione, necessaria per la parte relativa all'intercettazione. Esamina le frequenze e capta quella che ci serve. Terzo, e più complesso, è un emettitore di raggio molecolare. È la componente che trasforma la tua materia in energia adatta alla trasmissione. Hai già costruito la piattaforma riflettente stabilizzata che riflette e concentra il raggio molecolare. Oh, prima che mi dimentichi, un'ultima cosa. È importante che tutte le componenti siano collegate, quindi i pezzi devono essere su un'unica rete elettrica. Altrimenti non funzionerà. Se hai bisogno di aiuto, sono in officina a barcamenarmi tra calcoli e calibrazioni varie. Ti augurerei buona fortuna, cavaliere. Ma ne avremo bisogno entrambi. Ok, la confraternita è un malignore, ma senti me. Ok, la confraternita è un malignore. Grazie. ti serve aiuto per l'intercettatore di segnale censura ingram ti serve aiuto ti serve aiuto per l'intercettatore di segnale come facciamo costruire una console di comando i vecchi ospedali potrebbero avere equipaggiamento per trasformare le tue informazioni molecolari per la trasmissione non mi viene in mente altro non mi viene in mente altro Ti serve aiuto per l'intercettatore di segnale? Perfetto di segnale. Grazie a tutti. 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 Se fossi stato il comandante, non l'avrei mai permesso. Era una risorsa preziosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.